Si è conclusa la solenne festività di Gesù Redentore, che così come di consuetudine ha visto un momento di celebrazione eucaristica anche al Monte San Giuliano, ove è stato retto un monumento al Cristo Redentore, fra quelli voluti in ogni regione d'Italia, da Papa Leone XIII in occasione del Giubileo. Ad aprire le celebrazioni, la Santa Messa, concelebrata da Padre Giuseppe Anfuso e da Padre Angelo Pilato sul Sagrato del Monumento, per l'occasione adornato per il secondo anno consecutivo con l'infiorata, curati in ogni dettaglio dal coordinamento dei comitati di quartiere. Infiorata allestita grazie al contributo di alcuni fiorai nisseni e di una banca locale. A seguire fedeli presenti hanno recitato il rosario in un clima di intensa spiritualità che ha coinvolto davvero molti nisseni. La serata si è conclusa con alcuni spettacoli di intrattenimento.